Armin, se cucini come cammini, mangio anche la pentola. A farve la Vergine Maria, Melania e Massimo, pastorelli di 10 e 15 anni. Per conquistare il cuore di un uomo, basta solo la sensualità di una donna. Guarda nei suoi occhi e ti catturerà il desiderio. Putrida, fica di capra. Calma! Mi freggio l'altra guancia? Le macchie di mezzo! Avanti, lasciatemi scappare. Andiamo in prigione. Cos'è Lysara Bengoa? È colpevole del delitto di brigantaggio e oltraggio all'onore militare. Credi alle sue menzogne e distruggerà la tua vita. Assapora la sua pelle e ti trascinerà all'inferno. Assapora la sua pelle e ti trascinerà all'inferno. Assapora la sua pelle e ti trascinerà all'inferno.